Non si placa l'emergenza sicurezza a Battipaia. Dopo i fatti dello scorso fine settimana, durante i quali un minorenne è stato accoltellato proprio nella piazza centrale, la città si interroga sul futuro e chiede rassicurazioni. Mentre è stato tratto in arresto Daniele Giovanni Bandello per tentato omicidio e danni di un minore, reato aggravato dai futili motivi, la paura continua a serpeggiare tre residenti. E a fare tanto timore sono proprio i giovani e giovanissimi, una generazione diventata fin troppo violenta e sempre pronta allo scontro. Nei mesi scorsi un'altra ondata di violenza torbava i sonni dei battipaiesi, ma per un certo periodo essa si era fermata. In questi giorni estivi, complici il gran caldo e una certa propensione a spingersi oltre il limite da parte delle giovani generazioni, grazie anche ad alcol e droghe, il fenomeno è tornato con tutte le sue forze. A nulla è dunque valso il documento firmato da tanti battipaiesi, in cui si chiedeva una maggior mobilitazione di forze dell'ordine in città, proprio per garantire ordine e sicurezza. Nei progetti del comune vi sono nuove installazioni di telecamere e di videosorveglianza, ma anche un'intensificazione della presenza di vigili urbani sul territorio, cosa che al momento è ferma al palo per una lunga serie di motivi. Nel frattempo, però, la delinquenza dilaga e a poco servono i rari arresti effettuati da polizie e carabinieri e i danni di stranieri. Sulla faccenda, la sindaca Cecilia Francese è chiara. Non si tratta di un fenomeno circoscritto a battipaia, ma l'intera nazione. È colpa della crisi economica e di quella dei valori, dice. Polizia Municipale, Polizie di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza collaborano cercando di dividersi i ruoli. Fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità. E noi stiamo potenziando i sistemi di videosorveglianza, con finanziamenti da 150.000 euro appena ottenuti. Le nostre telecamere, conclude la sindaca, si sono già rivelate utili in alcune attività di indagine.